sono paola d'agostino direttore dei musei del bargello che è un gruppo di cinque musei di recente formazione e a differenza di altri istituti questo gruppo di musei mancava di tutto e grazie alla fondazione cassa di risparmio quando il bando è stato pubblicizzato nell'inverno del 2016 è sembrata un'occasione imperdibile io ho scelto di partecipare perché l'argomento era proprio su gli analisi del pubblico capire chi visita il museo e il ruolo che il museo possa svolgere per per la città dove dove stanno questi musei la potenzialità che i dati raccolti l'elaborazione i confronti con la fondazione Fitzcarraldo con la stessa fondazione cassa di risparmio hanno dimostrato quanto questi luoghi siano dei tesori che vanno tutelati ma anche promossi e promossi anche dal punto di vista di investimento economico valore museo è un progetto pensato bene e mette il pubblico al centro del del museo una cosa che forse negli ultimi anni è indispensabile